Buongiorno a tutti, volevo ringraziare il Presidente della nostra Camera di Commercio Gino Sabatini e il Presidente Nazionale Prete, salutare tutte le altre autorità, il Prefetto, il Magnifico Rettore e tutti gli usti rappresentanti delle istituzioni civili e militari che oggi sono qua in alloggia di mercanti perché è stata un'importante occasione di confronto. Diciamo che ho colto nell'intervento del Presidente Prete un passaggio che a mio avviso è molto vero, quanto ha cambiato il digitale internet nella nostra società. Negli anni 80 e negli anni 90, anche quando noi pensavamo a conquistare lo spazio e a conquistare i cieli, non potevamo immaginare una tecnologia come quella che in pochissimo tempo, perché se andiamo a vedere il tempo che ha trascorso, ha stravolto tutto quello che poteva essere stravolto. Devo dire che tutto è avvenuto anche senza una regolamentazione perché questa tecnologia è stata talmente potente e imponente che ha cambiato i nostri costumi, i nostri usi, che ha cambiato anche la capacità economica delle imprese, che sta cambiando anche la logistica, tutte le dimensioni che sono accanto a noi. Sicuramente è un fenomeno talmente imponente che avrà delle ripercussioni, tranne il fatto che ci sarà un'altra tecnologia che dovesse intervenire, che avrà delle ripercussioni positive ma che devono essere controllate. Diceva bene chi mi ha preceduto, è necessario che le istituzioni non fermino la potenza di questa tecnologia ma che questa tecnologia sia utilizzata sotto il controllo delle istituzioni perché il fatto che possa sfuggire di mano e possa causare degli effetti negativi e dei pericoli, dei rischi, sono sicuramente presenti. Però cerchiamo di vedere come nella nostra regione possiamo e dobbiamo cercare di interpretare meglio questa opportunità perché per noi il digitale è assolutamente presente un'opportunità. Noi siamo rimasti indietro per una vicenda infrastrutturale di reti nazionali con le autostrade, con le ferrovie, siamo rimasti indietro devo dire anche con la vicenda aeroportuale, quindi abbiamo una connessione materiale molto difficile. Però la connessione digitale ci può aiutare perché ha dei costi inferiori rispetto a quello che costerebbe connettere immediatamente la nostra regione, non che non vada connessa materialmente, per carità. Ma sicuramente i costi per colmare il gap digitale sono molto inferiori rispetto al costo di colmare il gap materiale e questo può essere fatto però con una forte filiera istituzionale tra le università, la regione e i comuni, la camera di commercio e le imprese e le scuole che formano i nostri giovani. Secondo me è un dialogo necessario, abbiamo e dobbiamo ai nostri giovani tantissimo perché se vogliamo tenerli nella nostra regione, all'interno delle nostre imprese, all'interno della nostra pubblica amministrazione, dobbiamo dare loro la capacità di essere competitivi. E credo che questo passi moltissimo nel sapere interpretare bene la sfida digitale, la sfida di internet, una sfida che può connettere il modello Marche delle piccole e medie imprese, può renderlo competitivo nonostante le difficoltà infrastrutturali e materiali, può consentirci di restare all'altezza della sfida del nostro passato sulla moda, sul mobile, sulla meccanica e su tanti altri settori dove ci siamo resi, ci rendiamo protagonisti, anche se, come posso dire, utilizzando un eufemismo venuto, un modo di parlare venuto famoso con la pandemia, anche se ci connettiamo da remoto. Ecco, venendo qua ho ricevuto la telefonata di un'importante impresa che agisce a livello nazionale e internazionale che mi sollecitava rispetto appunto alle sfide del futuro e penso che queste sfide noi le dobbiamo cogliere insieme. Il pericolo, presidente, che abbiamo nelle Marche è che la piccola dimensione e quindi la capacità di guardare esclusivamente a se stessi possa farci perdere la capacità di capire e di comprendere invece come anche la sfida del digitale debba essere vissuta in rete, in rete nel senso dove noi possiamo aggregarci e aggregandoci possiamo raggiungere migliori risultati e risultati più positivi. È l'esempio della Camera di Commercio che ha ottenuto un risultato storico, se rei definire, perché nella nostra capacità di essere campanili siamo riusciti ad aggregarci in un unico soggetto, è l'esempio però che aggregandoci noi possiamo dialogare e superare anche dei limiti che diventano culturali, diventano di campanile territoriale. Può sembrare retorico, può sembrare anche fuori dal ragionamento del digitale, invece io lo ritengo centrale perché secondo me anche le università, anche gli istituti tecnici, se riescono a creare una strategia comune riescono a dare un messaggio più forte e più anche capace di essere percepito da tutti. In questo senso c'è la disponibilità della regione Marche, c'è la disponibilità a dialogare con tutti i corpi intermedi che vedo rappresentati nelle massime figure istituzionali oggi, c'è la disponibilità a discutere con le università e con i soggetti che agiscono nella formazione pubblica, e c'è la disponibilità a parlare anche con le imprese perché riteniamo che accanto alla strategia di internazionalizzazione legata alla strategia delle fiere, alla strategia della capacità nostra di muoverci alla nostra regione, ci sia anche necessariamente una strategia che va colta per settori, per aree, per distretti e che deve essere fatta insieme, dove nessuno si deve sentire solo, ma tutti devono avere la capacità di percepire l'importanza di compiere certe sfide insieme. In questo senso vi ringrazio per aver portato questa opportunità di confronto nella nostra regione, vi ringrazio perché ci onora e ci dà anche l'opportunità di ascoltare degli interventi che ci arricchiscono, e vi invito a cogliere sempre la possibilità di collaborare con noi che abbiamo veramente il piacere di aprirci a tutte le sfide perché vogliamo riportare la nostra regione ad essere centrale, ad essere aperta a tutte quelle che sono le opportunità che ci vengono poste. Quindi veramente grazie Presidente, grazie per la sua presenza qua nella nostra regione, non è la prima volta, la ringrazio anche per la sua vicinanza nell'immediatezza delle calamità ultime che ci hanno colpito con l'alluvione e spero di avere altre occasioni per averla ospite con noi qua nella nostra regione.